L'acchi fotonici! Megli perforanti! Mi chiami Alfredino, che pronto? Alfredino non c'è. Come non c'è? Alfredo! Alfredo! L'abbiamo trovato! E' nel pozzo! Nel pozzo? Ora allertiamo che dici, signora, non si preoccupi. Ci pensano loro. Alfredo! Alfredo! Un bambino è caduto in un pozzo artesiano. I nostri hanno provato un primo intervento, ma non è andato bene. Gentilmente, fatevi indietro, ci fate lavorare. Vedrai che qualcosa ce l'inventiamo, su. Ma che preventate? Da sotto ci sta mio figlio! Alfredo soffre di una patologia cardiaca. E restare l'incastrato a lungo, qui poi non è compreso. Si, lo so. E' intrappolato a 36 metri di profondità. Mentre l'operazione... Il pubblico, i telespettatori vogliono le notizie da Vermicino. Se oggi in Italia ci fosse un corpo testato non gliene fregherebbe niente a nessuno. Devo andare a Vermicino. Sembra che ci stanno dei problemi. Io voglio vedere crescere questo bambino. Che si laurea. Che si sposa. E' un bel pensiero. Che si non c'è, posso tutto. Grazie a tutti.